Benvenuto nella mia Academy Online di Pasticceria! Io sono Andrea Di Giglio, chef e pasticcere dal 2004 e aiuto le persone in pasticceria a diventare molto più abili grazie ai nostri percorsi formativi. Infatti mi sono preso il compito di realizzare vari percorsi formativi partendo dalle basi fino ad arrivare a percorsi più complessi come pasticceria lievitata, pasticceria da forno, pasticceria classica e moderna, bilanciature di pasticceria e quindi vedremo le frolle, la biscotteria, vedremo tutte le basi, vedremo i lievitati, panettone, croissant, la vienoserie, le torte da forno, le torte cremose, quindi un percorso veramente meraviglioso suddiviso in vari percorsi formativi. Infatti grazie ai nostri percorsi formativi aiutiamo appassionati, aspiranti pasticceri, pasticceri e tutte le persone che vogliono capire la pasticceria a fondo. Pasticceria professionale non vuol dire difficile, pasticceria professionale vuol dire andare a fondo delle cose e capire il perché delle cose e io ti insegnerò il perché delle cose e vedremo tantissime tecniche, tantissimi modi di lavorare e approfondiremo tantissimo la pasticceria. Ad ogni modo c'è link in bio, contatta l'assistenza per capire quali sono i percorsi più adatti a te, puoi iscriverti direttamente cliccando sul link e andando direttamente in Academy che abbiamo vari percorsi formativi, oppure puoi vedere le mie masterclass cliccando sulle mie masterclass e potrai vedermi all'opera per vedere se ti piace come insegno e vai a vedere le recensioni dei nostri studenti in modo tale da capire come migliaia di studenti si trovano con i nostri percorsi e capire che con noi puoi fare il salto di qualità in modo tale da diventare sempre più bravo, sempre più capace, sempre più abile in pasticceria. Ad ogni modo guarda le masterclass, iscriviti ai corsi, guarda le recensioni, contatta l'assistenza, clicca nel tasto del link in bio, ti aspetto in Academy. Ciao! 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 Ciao!